L'inizio della libera università di Alcatraz è stato che mi sono innamorato follemente di una ragazza incontrata per strada a Roma, lei ha una casa qui vicino, decidiamo di trasferirci in campagna, poi lei fugge con un altro, io resto con una casa diroccata e capisco che io torno in città o devo far succedere qualche cosa in questo posto meraviglioso, ci sembrava sensato fare un centro culturale che raccogliesse tutte le grandi idee che erano venute fuori poi dal 68, Viaggi Verdi come tutta una parte della società si sta muovendo verso il nuovo, stanno nascendo persone che vogliono viaggiare in maniera diversa, che vogliono abitare in maniera diversa, il sito web Viaggi Verdi è una grande rivoluzione, la semplicità con cui vengono presentate le cose, la grossa differenza che io vedo tra i siti dei grossi gruppi dei media e siti come questo, è un atteggiamento friendly, questo mi piace di questa iniziativa.